Dopo l'infortunio corso a Di Gennaro ne avrà almeno per due mesi, il club correrà ai ripari. Serve un altro portiere da fiancare a Sorrentino tra gli svincolati, c'è il trentenne pescarese Alessandro Iacobucci. Sebbene per un brevissimo periodo Iacobucci è stato già all'indipendenza di Auteria Latina in B nella stagione 2013-2014, l'avventura del tecnico siciliano durò lo spazio di tre giornate. A suo posto Roberto Breda che alla guida dei Pontini sfiorò di un niente la promozione in A sfumata nel duplice spareggio con Cesena di Bisoli. Il portiere pescherese giocò a Coppa Italia ai play-off compresi 47 partite su 47 senza saltare neanche un minuto. In quell'Atina c'era anche Alessandro Bruno. La carriera di Iacobucci è stata quasi esclusivamente spesa in B. Ben 207 presenze così distribuite, 124 con Lentella, 47 con Latina. 25 con lo Spezia, 10 con il Frosinone, una ad inizio carriera nel Siena. Allenatore Antonio Conte nel 2010-2011. In Serie A set gettoni col Parma nella stagione 2014-2015. Altre opzioni, Filippo Peruchini classe 91 ex Chieti lo scorso anno nella Pistoiese. Il meglio a Lecce, due anni e mezzo la promozione in B da protagonista nel 2018 con Liverani in panchina. Damiano Crispino classe 94, ultima stagione nella Virtus Francavilla. Como, Bisceglie, Siracusa e Casertana. Le altre esperienze del 27enne portiere cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Domani sera il derby di Coppa Italia col Teramo. Inizio ore 20.30, ottavi di finale. Gara ad eliminazione diretta. Direzione affidata a Bordin di Bassano del Grappa. Corposo turnover. Dal primo minuto potrebbero trovare spazio tutti insieme Veroli, Rasi, Zappella, Frascatore, Val di Fiori, Diambo, Clemenza, Rauti, Marinungo e naturalmente Sorrentino. Probabile staffetta per Eugenio Dursi appena ristabilitosi dai recenti problemi fisici. Chi la spunterà ai quarti se la vedrà con la vincente tra Ancona, Matelica e Vitervese. Intanto nei due posticipi della dodicesima giornata, il Siena del neotecnico Maddaloni, trascorsi da Calciatore nella Castel di Sangro, ha espugnato Gubbio. Tuttora imbattuta, la Reggiana ha regolato in casa la Lucchese. Match senza storia. Reti di Sciaudone e Rozio, ma sull'1-0 per gli Emiliani. Rigore solare negato ai Toscani. Braccio staccato in area di Sciaudone. Grandi proteste e la Serie C.